Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo ritornati su FIFA 17 insieme ad Ale, Bat Bella, what are you? Avete conosciuto su Rainbow, sulle live, sui best moments, insomma Di sicuro l'avete visto, raga, avete sentito E perché Ale siamo su FIFA? Per una sfida, perché facemmo la live su Rainbow Se raggiungiamo e raggiungevamo 20 like Cosa succedeva? Raggiungiamo 20 like, sfida su FIFA io e te Ok Per cui perderò 11 a 0 E raga, ormai già cominciata la partita Se questo video raggiunge 20 like, 20-25 like Sfida anche sul Rainbow Vediamo chi è il più forte, va bene raga Io, io, sempre io Intanto andiamo qua con Marcello Raga, io a Real Madrid Volevi? Si Ora tira Mamma mia Il portiere Paura non ne ho Il portiere paura Non ne ha Ma il pallone se ne va via Dai, passala Oh, ma che cosa Ma ti c'è? Io non lo so E a Madrid Dai Ale, affrontami Eeeh Eeeh Io entri te In te del giocino Nella porta Ma guarda che culo ne rinchi Ne rinchi fa Ehi Eeeh Eh dai Ma vedi Meno male Meno male Ahè Bella Oh no Gollasso Deo Messi Pensavo che questo andava dall'altra parte Con l'esultanza di Cristiano Ronaldo Ma è Busca Le sa Si fatti che Ma le sa Ma è Busca Oh mio Deo Che culo Porca Culo eh Eh si Tanto culo Puntamento con i gol Ha concluso in porta con determinazione Realizzando davvero un bel gol Sì La difesa non ha fatto Eh Albi Terremet al mezzo Cacchi Modric Punta l'area Dai Oh Mamma mia No Sto credito Sto credito No 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 Si 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 Uh 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 No 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 Vai Cristiano No No Ve lo fa Dira buono Si 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 Non 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 Eh Butta La te Guarda Uno Yes E fallo Ho preso prima la palla Oh Oddio Mio Vai CR7 Vai CR7 Vai Lunga un altro po' Quale è un problema Lunga 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 un altro po' Oddio Ma la cosa faccio schifo Lunga un poco Lunga un poco Lunga un poco Che contento Tunnella Mamma mia ma ce ne ho 3 addosso Sapevo pure Che culo Me le hai buttate a terra Uno Uno Si avvicina all'area Buon possesso palla Occhio a Benzerà Maro Ci ho sperato Fuori No guarda là Popolini Ok Mia Come è tua Come devi andare Dai Mamma mia bella Mi sono cuore Ronaldo Vai per Bale Occhio al suo movimento Oh Possono ripartire Da per recuperare Lo passero giucci Raga 1 a 0 Lo stesso parola 5 a 50 Ha avuto un'azione fortunata Raga Fa tornando Merde Che te va Secondo tempo Vedete che è più forte Vedete che è più forte Vedete Io non voglio giocare dietro Perché Se no non ti faccio segnare Mi sembra brutto Per il mio stick Ma Potrei Potrei passarlo Direttamente Portiere Gioca A questo posto Dai Hai sa Di fondo Bebe Oh Oh Becca Mamma mia Numero Dai E' ronaldolo Lunga lunga Troppo Si No E' già Mamma mia Si 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 Deja la messa No Non gliela do più Non gliela do più Eci Deja dovevi dare Eh Mamma mia Prima mi scatta Alla dietro E poi Oh Neymar Lunga palla E la perde Oh No che culo di merda Infatti No Bass Facciamo sti due goal ad Alessandro C'ha miseria Fuori Neymar E chi ne è là dentro Oh 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 Ma quando vado a San me Non lo so Ma guarda Sempre tu Ancora Vai 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 Eh Mamma mia Ma perché Sbaglia sempre L'ultimo passaggio Avangu Mamma mia Oddio No Leo Eh Si Beh Si Beh Sfigo Bravura Eh si Per alcune è sfiga Per alcune è bravura Guardate qui Guardate qui Guardate qui Giusto nell'angolino Pensavo che era furio Guarda là che ghoul Mamma mia Mia Meo deos Raga mi sto umiliando Come sempre Eh No Perché Cigi È perché Sono scherz Lezioni su una mano Dai raga Che vogliamo il recupero Vogliamo il recupero Mamma mia Benzema Clarim Solo con me Ma stai in casa È normale Bel gol Bel gol Dai Ma vogliamo Un bel gol di Cristiano Ronaldo Ciao miseria Oh Si blocca Per la connessione pessima Di Alessandro E mo E mo Hai voluto fare il credino Hai voluto fare il credino No È la sbaglia Alziamo il baricentro Dai Vediamo un po' di tempo Te la butto in porta Te la butto In porta Che culo Che culo Ehi Mosegni 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 Mamma mia Perché mi fa la finta Si profila una clamorota Sconfitta interna Per il real Un bambino Un episodio Per aderizzare Il risultato Raga 88 Dai A 3 a 1 Dai A 3 a 1 Ehi Niente da fare Ok Raga Ultima azione Eh ma Ma Mo I ammo Per questi due minuti Di recupero Si 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 E mo Rivediamo anche i gol Mi sembra giusto Eh si Guarda lì Leo Messi Guarda che palla Che recupera Attenzione Leo Messi Con il pallonetto Andiamo Non si può perdere Messi con le esultanze Cristiano Ronaldo A me è piaciuto Eh Vabbè Raga Vinto lui Se volete un'altra sfida Su FIFA Lasciate un bel like Commentate Guardate che lui ci perde di nuovo Arriviamo a 20 like Per un'altra sfida Ragazzi Se volete anche una sfida Sul rainbow Un altro like Se ditelo sempre sotto nei commenti Una bella personalizzata Se arriviamo a 30 like Una personalizzata Sul rainbow Io Contro Luigi Con le pistole Andiamo come andrà Signori Lasciate un bel like Commentate Condividete Iscrivetevi Alessà Che vuoi dire Qualcos'altro Niente Ha parlato Il gioco Infatti È stata colpa Del gioco Perché non è bravura Arrivederci ragazzi Bella raga Lui bellissimo Che è andato bellissimo Che è andato bellissimo Devo pubblicare Quell'altro in cui ho vinto O in quell'altro in cui ho perso Boh È andato meglio Quello in cui ha perso Perché ho parlato di più Sì Guarda a caso Proprio quando vinci Parrei di più Io pubblico pure Ad questo momento Comunque Il Barcellona Non lo so proprio usare Quindi Proprio bravura mia Personale